Lino Menadeo rappresento la squadra di Paola Viaggi, volevo dire che questo è un bel torneo, sono molto felice di partecipare a questa organizzazione che hanno fatto Giuditta e i suoi collaboratori. Noi siamo partiti per divertirci con la mia squadra, con tutti i miei amici, tutti i compagni che frequento durante il tempo libero e volevo fare anche un applauso a coloro che si impegnano qui per farci divertire, siamo un bel po' di ragazzi quindi è anche difficile mettere tutto in ordine, farci trovare sempre i campi a posto, gli albitri e tutto, quindi dono in bocca al lupo a tutti quanti, alle organizzazioni e a chi partecipa a questo torneo.